Sono Luca Vignali, primo ovue dell'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. Ricordo il primo incontro col maestro Abbado, quando venmi chiamato con l'orchestra Mozart. E ricordo anche che quando il maestro vedeva visi nuovi all'interno dell'orchestra era molto diffidente. Io per tutta la prima parte della prova lo fissavo per capire se quello che stavo facendo potesse andare bene o meno. E finì con l'incertezza, ma durante l'intervallo lo incrociai, mi guardò, mi venne incontro e mi die della mano. In quel momento sapevo che avevo passato l'esame per poter rimanere all'interno dell'orchestra con questi bravissimi colleghi e ad altissimo livello. Sono felicissimo di far parte dell'Accademia intitolata Maestro Abbado, Appunto è coadiuvato da professionisti molto molto illustri che vengono dalle orchestre più famose e da nazioni anche lontane fra di loro per portare ognuno il proprio contributo e la propria esperienza. Penso che questa sia un'occasione veramente unica per poter studiare al meglio il proprio strumento. Un caro saluto. Grazie a tutti.